vi penso in questo momento di lotta è bello quando tanti hanno detto bisogna far sentire i bambini nelle case che sono degli eroi che stanno lottando per la salvezza è così noi siamo nell'ansia una mamma mi ha scritto solo una parola l'altro giorno ansia noi abbiamo paura non si capisce niente se ci pensate non c'è una sola cosa che avevamo deciso che sta ancora in piedi c'è un libro antico bellissimo quello del coelet dove l'uomo si accorge che tutto è vanità quell'autore non è scettico nel senso di non essere non credente alla fine dice dinanzi a questo sfascio l'unica cosa è credere in dio quella è l'unica cosa salda ma l'uomo veramente è un disastro e coelet e noi io voi lo amiamo la grande domanda che non si risolve così troppo facilmente noi ci accorgiamo oggi che sono troppi venditori di buone intenzioni di promesse troppo facili non andrà tutto bene andrà tutto bene certo adesso vogliamo capire cosa vuol dire questa parola ma come fa andare tutto bene se le cose sono un problema questa è la grande questione se la gente muore se non si sa più cosa fare se l'economia crolla esattamente cosa si intende dire quando si dice che andrà tutto bene ed ecco allora oggi ci lasciamo accompagnare da dal testo della della samaritana dell'incontro di gesù con la samaritana lo vedete anche qui in questa immagine meravigliosa che è degli affreschi di sant'angelo informis della riforma gregoriana siamo alla fine dell'undicesimo secolo ecco innanzitutto mi colpiva una cosa oggi che condivido con voi è evidente che per quella donna e per gesù la carne è importante gesù le annunzia dio cerca gli adoratori che pregano in spirito e verità ma questo spirito e verità non vuol dire lo spirito senza la carne come potrebbero pensare alcuni vuol dire ed è questa la cosa difficile meravigliosa se fosse possibile avere tutto il nostro cuore presente nella carne non uscire dalla carne fregarcene dei problemi di oggi del del virus dello stare chiusi in casa del cibo che non sappiamo per quanto tempo basterà ma stare con tutto l'amore con tutta la presenza con tutta la fede con tutta la speranza dentro questa carne è così facile essere fuori dalla nostra carne vedete noi ci accorgiamo oggi che tutto internet non ci basta certo possiamo fare le lezioni telematiche lo dico a voi docenti in particolare ai professori delle scuole certo possiamo comunicare con mille modi possiamo mandare immagini ma lo volete mettere un abbraccio in questo momento qui ci sono due bar meravigliosi cioè c'era una volta il bar leonardi subito mi hanno portato appena diventato parroco in questi bar assaggiare i cornetti ma lo volete mettere mangiare un cornetto parlare con il barista noi oggi sentiamo che quello che vogliamo quello che è la vita è stare con il cuore dentro la carne noi abbiamo mangiato tanti i cornetti in maniera frettolosa senza goderceli senza essere felici del barista che ce li dava senza ringraziarlo senza parlarne insieme dio cerca adoratori che mangiano dei cornetti essendo felici di farlo lodando lui lodando le persone con cui lo possono fare insieme noi sentiamo che è questa carne che ci manca i vangeli gnostici come sapete o come dovreste sapere leggete Gaetano Lettieri un professore della sapienza in questo vengono dopo il vangelo di Giovanni e il gravissimo errore dei vangeli gnostici e che hanno dimenticato la carne nel vangelo di Giovanni la carne vera carne quella donna lo vedremo ha avuto un sacco di amori cerca l'acqua va sempre al pozzo cerca la vita dentro la carne gli gnostici il vangelo copto di Tommaso il vangelo di Giuda si dimenticano la carne conta la vita non c'è più l'amore non c'è più la carne noi vorremmo dare un bacio ad una donna sapendo che quel bacio dice che l'ameremo per sempre che se nascerò un bambino saremmo felici mentre noi sbaciucchiamo cioè c'è la carne ma una carne che non ha dentro tutto lo spirito tutta la gloria di Dio tutta la forza tutta la bellezza e in questo dialogo fra Gesù e la samaritana tutto comincia da una cosa molto carnale che è l'acqua Gesù vuole bere stanco fa caldo oggi noi ci domandiamo ma quanto basterà l'acqua ma se si rompe lo scaldabagno ma si dovesse fermare l'acqua ma come facciamo un amico mi ha detto che nella liturgia sapete che l'acqua è il segno del battesimo per questo viene letto questo vangelo prima di Pasqua proprio per preparare i catecumeni quelli che si preparano al battesimo per il battesimo nella notte di Pasqua mi diceva lascia perdere tutti i segni aggiuntivi noi riempiamo la liturgia di mille fronzoli mille camolate mille cose da portare all'offertorio lui dice prendi l'acqua prendi un'enorme caraffa versala e fai sentire il rumore dell'acqua che cade quell'acqua che ci manca quell'acqua che disseta quell'acqua che desidereremmo vedere passeggiando sulla spiaggia andando in un lago in montagna che ora non possiamo vedere da vicino ebbene Gesù dice donna dammi da bere e comincia un dialogo su quest'acqua a me piace dire che proprio questo bisogno corporale già ci spalanca il cuore io sono filosofo un po da strapazzo anche se ho studiato filosofia la sapienza mi piacciono queste domande un po banali no per alcuni anni mi sono domandato ma perché dobbiamo bere e mangiare ogni giorno pensate alla fatica che facciamo questi giorni stiamo tutti ingrassando questo fatto di dover continuamente mangiare cucinare no mi domandavo ma perché dio ha fatto la vita così non basterebbe mangiare una volta a settimana e poi dopo si va avanti cioè perché tutto questo spreco di tempo e invece se ci pensate questa acqua questo cibo ci fa capire che la vita ci viene regalata noi siamo stati creati siamo nati una volta ma se noi oggi non mangiamo un cornetto non mangiamo i cornflakes non mangiamo gli spaghetti noi non riusciamo a vivere a pensare a pregare a voler bene a stare con i nostri figli a pensare un libro da scrivere a fare una lezione virtuale noi siamo nutriti siamo donati riceviamo in donna la vita ogni giorno tramite il cibo e l'acqua se uno si accorge di questo il nostro cuore comincia ad entrare nella nostra carne pensate oggi ai nostri medici straordinari ai nostri studenti infermieri che si preparano a diventare andare negli ospedali una persona che viene salvata riceve la vita è vero che la vita è sua ma non è sua quando noi diciamo la vita è mia me la gestisco io non è vero ma come niente la vita mi viene regalata ogni istante ogni donna ogni uomo ogni bambino ogni ottantenne riceve in regalo questa vita e gesù le comincia a dire donna ma tu cerchi sempre l'acqua non hai un'acqua in te stessa ma non sarà che non ti basta l'acqua ma cerchi attraverso il segno dell'acqua un cuore che sta dentro l'acqua ma che non è solo quell'acqua e allora le chiede una cosa strana sembra non entrarci niente a volte non viene neanche sottolineato questo aspetto vai a chiamare tuo marito cosa c'entra il marito con l'acqua dovrebbe dire ma che cavolo c'entra e la donna capisce e dice signore ma io ho sei mariti e quello che non ho non è mio marito questa donna apre il cuore a gesù man mano che si comincia a parlare di cosa è la vita di cosa conta veramente la donna le dice signore io in amore sono un disastro io ho amato un sacco di persone ma non ne ho amato uno veramente per intero del tutto mai ne ho amati tanti anche quello che amo adesso non è che lo amo veramente questo passaggio dall'acqua all'amore ci fa capire una seconda cosa è la nostra carne che grida il bisogno dell'altro noi per questo vorremmo abbracciarci vorremmo parlare vorremmo stare insieme perché noi certo che mangiamo ma noi non è che mangiamo per mangiare non è che lavoriamo semplicemente così per avere del pane noi vogliamo lavorare per amare gli altri per costruire una famiglia per costruire l'italia a noi interessa veramente la vita e da un lato si vede questa cosa meravigliosa del dialogo da solo di gesù con una donna guardate che questo è nuovo nella storia dell'umanità gesù parla da solo con una donna in un tempo in cui in tutte le culture questo era quasi proibito don andrea santoro quando era in turchia sapeva che non poteva predicare il vangelo quando venivano delle classi lui non poteva dire chi era la samaritana chi era gesù cosa era la fede aveva messo però tutte le immagini di gesù con le donne gesù l'adultra gesù la samaritana così quando una bambina un bambino diceva che cos'è quell'immagine cosa fa quell'uomo con quella donna intorno al pozzo come come in questo pozzo dove si trovano loro due lui poteva prendere la parola e dire vedete l'uomo cerca l'amicizia poter parlare con una donna senza volerla per sé poter parlare perché lei le due persone si scambino i loro doni spirituali possano crescere possano cercare dio ecco questa immagine di questa donna con l'anfora ne parleremo che che si avvicina qui ci sono anche gli apostoli ma in realtà c'è un momento in cui gesù sta da solo veramente da solo senza nessun altro con lei e questa donna scopre lo scopriamo noi che l'amore non ci basta mai ma non ci basta mai notate bene questo è molto importante potremmo passarci anni interi a capirlo tutta la vita non è che non ci basta perché quella donna o quell'uomo non sono all'altezza e perché non c'è il nostro cuore non c'è dio se dio fosse in quella relazione in quel nostro rapporto con quei bambini basterebbero perché dio basta dentro le cose le cose da sole non ci bastano questa è la grande domanda che pone il brano della samaritana perché mai tutti gli uomini della terra tutte le donne della terra non potranno bastarci perché il mondo intero non basta all'uomo ma se c'è un santo e mette dio nelle cose ogni piccola azione diventa invece piena dell'infinito dio è nell'infinito mi ha fatto sorridere mi ha fatto un po anche arrabbiare voi lo capite trovate un testo su questo sugli scritti dove lavoro se volete è stato stravolto tutto il significato di un'opera meravigliosa di fanaic l'agnello mistico a gand dove c'è l'esposizione meravigliosa del pittore no hanno inventato un video pubblicitario dove ci sono ad amo e eva i due estremi di questo politico che vengono interpretati come se fossero l'amore degli uomini e si dice sì tu adorato nel politico di gande quindi si vedono tutte persone umane uomini donne eccetera che vengono messi al posto di ad amo ed eva ma ad amo ed eva lì sono proprio il segno del peccato cioè segno che l'amore sono eva c'ha la pancia e nel peccato nel momento dopo aver commesso il peccato originale così ad amo sono di un colore diverso del resto della tavola quella tavola vuol dire perché l'amore non ti basta perché c'è il peccato se non c'è l'agnello se non c'è l'amore dell'agnello che dà la vita per te per tua moglie tuo marito i tuoi figli il tuo amore non basta è una palla che apre all'infinito e viene adorato non sei tu adorato e adorato l'agnello mistico e allora se l'agnello mistico è adorato allora ecco che il tuo cuore può entrare in quei gesti quotidiani che oggi compi nella tua casa con quei bambini rompiscatole con quel marito quella moglie con quella difficoltà di quegli spazi chiusi ma dio è lì dio ti dice adesso fratello stai lì adesso ama questa cosa un senso e allora vedete questo testo ci apre una lettura più profonda dell'andrà tutto bene che è bello è cioè andrà tutto bene un annunzio evangelico andrà tutto bene vuol dire che la vita vince la morte è l'annunzio di Pasqua andrà tutto bene se noi lo capiamo bene non è una stupidaggine ma cosa vuol dire andrà tutto bene se sono già morte migliaia di persone se la gente si ammala se stiamo perdendo occasione di lavoro se dobbiamo essere chiusi in casa se facciamo delle lezioni virtuali che sono belle dobbiamo farle dobbiamo però non sono la stessa cosa non va tutto bene andrà tutto bene vuol dire che in questa carne mortale è presente l'opera di dio questa è l'annunzio cristiano c'è un brano molto bello di san paolo nelle lettere romani che è simile ma ci dice un aspetto diverso dice san paolo tutto concorre al bene di coloro che amano dio tutto concorre al bene di coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno vedete è questo quello che ci ha annunziato oggi che è annunziato alla samaritana non è che la tua vita va bene ma se gesù viene a parlare con te allora la tua vita trova tutto il suo significato pian piano troverà il senso delle tue cose dio ti dice ama adesso questo amore che sembra così piccolo sei chiusa in una storia sei chiusa in una realtà questa cosa ha un valore infinito se lo trasformi in preghiera in amore in carità in speranza in dono di grazia in pensare il futuro per te e per tutti quanti gli altri e dall'inizio dell'anno che cantiamo lo canta una giovane della nostra parrocchia anche che ha una voce meravigliosa nicola un canto di newman il cardinal human si chiama guidami tu luce gentile dio viene chiamato luce gentile veramente gesù si rivela come luce gentile della samaritana questo canto questa preghiera la scrisse il cardinal human quando era si era riavvicinato alla fede era stato malato e a un certo punto tornando dalla sicilia in inghilterra dice signore io non ti chiedo di vedere la meta fammi vedere il primo passo e questo mi basta provate a ascoltarlo cercatelo questa preghiera questo canto pregatela leggetela e questa è la fede che ci guida oggi noi non sappiamo cosa succederà noi sentiamo che sempre più si allontana il giorno del ritorno alla vita abituale ma noi dobbiamo scoprire che oggi un passo fatto in questa casa oggi ha un significato questa è il grande annunzio una cosa che sto provando a fare ve la consiglio è una cosa piccola non la prendete troppo sul serio però può essere bene io sto provando ogni tanto ma mi è molto difficile a camminare più piano in casa se devo mandare una mail a pensarci un attimo di più se faccio una telefonata a fermarmi un attimo prima a gustare di più le cose a gustare di più quel passo da fare noi facciamo tutto di fretta e questo benedetto terribile questo maledetto virus ci obbliga a dire ma perché non ti godi le cose perché oggi non va tutto bene e non andrà tutto bene perché esiste la resurrezione perché la vita nelle mani dio e la vita è nelle mani dio anche se uno dovesse morire noi oggi non sappiamo più morire eppure questo è quello che dovremmo fare un giorno e dobbiamo morire ogni giorno a noi stessi per amare per sacrificarci per studiare per preparare gli esami per insegnare per voi docenti universitari che dovete ogni giorno dare voi stessi a tutti quanti giovani le giovani generazioni trasmettere tutto il sapere la donna dinanzi a gesù scopre che gesù lo conosce è questa l'esperienza della fede costui mi conosce costui sa il mio cuore sa che io ho bisogno di avere un cuore dentro la carne costui ce l'ha veramente lui il cuore dentro la carne questo qui veramente sa che andrà tutto bene lui lo sa che andrà bene anche per me peccatrice lo sa che andrà bene per me che ho perso tutto che ho sbagliato tutto io ho una vita che è un casino e questo mi dice guarda il signore ti perdona viene il signore tu avrai un'acqua dentro di te che zampilla per la vita eterna e allora questa donna lasciò la brocca è un'espressione me l'ha fatta notare un'esegeta non ci ho mai fatto caso guardate in questo dipinto come grande la brocca è la brocca che era tutto quello che lei faceva prima e ora lei la lascia lì perché ha scoperto una cosa che dà un significato a quell'acqua per lei è più importante adesso capire la vita e chiaramente tornerà a bere avrà sempre bisogno di bere ma c'è una vita più grande c'è dell'altro giovanni l'evangelista lo ha provato questo non importa oggi sentiamo tante persone dicono ma noi non sappiamo chi ha scritto i vangeli ma chi se ne frega non è questo il problema il problema è che noi capiamo che quei vangeli hanno veramente le parole di giorni all'evangelista di luca di marco di pietro di paolo chiunque le avesse scritti è la tradizione apostolica quella gente sapeva di aver lasciato la brocca perché in quel gesù c'era la vita questa è la fondatezza la storicità dei vangeli lì c'è l'acqua lì c'è la vita e guardate queste immagini di gesù gesù è dipinta dal pittore seduto sul cosmo e seduto sull'universo lui è il signore dell'universo è lì quel gesù di carne quel gesù fatto di materia quel gesù apparentemente piccolo eppure il gesù che guida l'universo intero il cuore di dio è tutto in quell'uomo ecco perché andrà tutto bene è vero ditelo urlato andrà tutto bene la vita e la morte la malattia la salute l'amore i fallimenti il peccato sono nelle mani di dio ecco perché andrà tutto bene certo che andrà tutto bene perché il signore gesù nella sua carne è il dio dell'universo e noi lasciamo la brocca noi lasciamo le cose lì lì dove sono ed ecco che alla fine gesù dice alla donna il padre cerca questi adoratori cerca questi adoratori che lo amano in spirito e verità mi colpisce questi giorni penso colpisca a tutti ho sentito a varie persone che lo dicevano questo silenzio irreale che c'è la sera noi abbiamo cominciato a far suonare una campana la sera che non è tanto grande non è neanche nostra si sente perché c'è silenzio è una campana come quelle campane che nel silenzio totale fanno sentire il loro rumore sembrerebbe irreale ma è un silenzio realissimo è il silenzio di quando l'uomo non parla di quando uno va nel bosco sale su una montagna è il silenzio del mondo è il silenzio dell'evoluzione è il silenzio che ha accompagnato la storia dell'umanità uno dei drammi della nostra vita è che non abbiamo più il silenzio noi non riusciamo più adorare perché abbiamo dimenticato la preghiera il silenzio questo silenzio un po' ci colpisce ci ferisce anche ci sembra irreale ma un po' ci fa bene io quando cammino pian piano più lentamente provo come dicevo a farlo sento che è prezioso questo silenzio che è di dio questo silenzio che ci fa dire che se diamo un bacio lo diamo veramente non ci sbaciuchiamo questo silenzio che se ci va a fare una lezione virtuale ci fa scrivere un articolo a voi docento universitari e dire io ci sto mettendo veramente il mio cuore io non voglio fare una cosa tanto per io voglio dire una cosa importante voglio dire che vale la pena ricercare che la vita degli antichi è importante io prego sempre per i pittori per i letterati antichi filosofi che sono morti don andrea santoro me l'aveva insegnato una volta eravamo al museo egizio del cairo lui ci fece pregari per fare uno i morti perché veramente loro è andato tutto bene c'è anche se hanno fatto un sacco di peccati però il signore è più grande quel silenzio ci dice questa preghiera ecco perché il cammino della quaresima è un cammino di preghiera se volete c'è una cosa che noi veramente non ero assolutamente preparati non siamo noi oggi a decidere di fare la quaresima ma questa quarantena sapete che quaresima vuol dire quarantena quarantena vuol dire 40 giorni come quaresima questa quarantena c'è imposta chi l'avrebbe mai fatto una quaresima così di rinunce di tante rinunce di fatica a stare in casa no un amico psicologo ha scritto una frase guardate che dovremmo scriverla sugli stipiti delle case un papà insegna con le parole con l'esempio la vita insegna ammazzate guardate che questa cosa qui è veramente un'ammazzata per tutti noi altro che l'educazione così gentili carini la vita è dura la vita è forte è terribile è bellissima arriva un bambino e sta lì e urla e piana la vita è meravigliosa ecco questa quaresima è diversa perché non siamo solo noi a doverla scegliere in qualche modo ci viene imposta vi do come piccoli consigli di preghiera trovate i testi di queste preghiere sul sito gli iscritti e le tre preghiere molto semplici che ci vengono dalla dall'esperienza dalla tradizione innanzitutto l'angelus l'angelus è quella preghiera in cui si dice per tre volte l'ave maria ricordando l'incarnazione lo si dice nella tradizione c'è negli antichi quadri di mille per esempio al mattino prima del lavoro all'ora di pranzo e alla sera è una preghiera brevissima provate a prendere un foglio a stamparla dirla è santificare il tempo e adorare dio nel tempo una seconda preghiera è quella del del papa alla scusatemi e del papa al divino amore la trovate su tutti i siti il papa è andato alla madonna del divino amore ha voluto pregarla il papa ama tantissimo questa preghiera se le preghiere semplici alla madonna è una preghiera a lei che nei secoli a roma è sempre stata invocata contro i pericoli contro le malattie e una terza preghiera è quella per la comunione spirituale noi non potremo fare la comunione questa è una cosa terribile ci fa piangere questo è una grazia di noi sacerdoti che possiamo continuare a avere l'eucarestia mentre tanti non possono averla in questo momento e chissà per quante domeniche viene da piangere viene qualcosa di veramente doloroso di difficile ebbene in questo momento di deserto di veramente di di digiuno c'è una preghiera che la chiesa dice che dire signore io vieni lo stesso in me tu sei più grande io ti adoro in spirito tu vieni veramente in me in questo momento nella mia casa ecco il signore ci accompagni e in questa piccola meditazione che come un ritiro io vi benedico nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen